Ciao ragazzi! In vista della verifica un bel po' di espressioni con le frazioni ci vogliono, eh? Ci vogliono, quindi andiamo a fare un po' di esercitazioni su le espressioni con le frazioni algebriche. Esercizio 1. B fratto A meno B più A fratto A più B. Andiamo a vedere. La prima cosa ovviamente da fare è il campo di esistenza. Non ci sono scomposizioni da fare perché la frazione si presenta con gli elementi immediati, quindi faremo A meno B diverso da zero e A più B diverso da zero. Quindi i denominatori vanno posti diversi da zero, perché un numero fratto zero è impossibile. Quindi risolviamo queste disuguaglianze e A è diverso da B e A diverso da meno B. Quindi questo è il campo di esistenza di questa espressione con le frazioni. Andiamo adesso a fare il minimo comune multiplo, che sarà aperta tonda A meno B chiusa tonda per aperta tonda A più B. Andiamo a svolgere i calcoli e avremo B per aperta tonda A più B chiusa tonda più A per aperta tonda A meno B chiusa tonda fratto aperta tonda A meno B per A più B. Come sono venuti fuori questi calcoli? Abbiamo fatto il denominatore, quindi il minimo comune multiplo, diviso A meno B, quello che rimane è B per aperta tonda A più B. E la stessa cosa abbiamo fatto con la seconda frazione. Quindi rimane dopo la divisione tra A meno B per A più B e A più B A meno B che viene moltiplicato per A. Svolgo le operazioni. Quindi andiamo a svolgere le operazioni. Abbiamo fatto quindi le moltiplicazioni e il risultato del numeratore è AB più B alla seconda più A alla seconda meno AB. Vado ovviamente a semplificare più AB e meno AB e avrò che il risultato sarà A alla seconda più B alla seconda fratto aperta tonda A meno B chiusa tonda per aperta tonda A più B. 1 fratto 2 meno X più 1 fratto 2 più X meno 1 fratto X alla seconda meno 4. E qui vedete che c'è una particolarità perché c'è un 2 meno X, quindi non è scritto X più 2, 2 meno X, quindi dovremmo certamente fare qualcosa in più. Intanto facciamo la scomposizione del terzo denominatore che è una somma per la differenza, quindi X più 2 per X meno 2, quindi X alla seconda meno 4 è diventato appunto aperta tonda X più 2 chiusa tonda per aperta tonda X meno 2 chiusa tonda. Andiamo ora a svolgere le altre operazioni, riordino il denominatore della seconda frazione, quindi come facciamo? 2 più X lo riscrivo X più 2 per renderlo simile agli elementi della terza frazione. Ora devo rendere omogenee le basi, c'è ancora un 2 meno X che non è omogeneo rispetto agli altri denominatori. E come farò a renderlo omogeneo? Utilizzo un trucco, innanzitutto faccio lo scambio, quindi vedete 2 meno X l'ho riscritto meno X più 2, poi metto in evidenza il meno 1 che è il massimo comune divisore tra meno X più 2, quindi è un piccolo trucco algebrico questo che ci consente di rendere omogenee le basi. Quindi farò meno 1 per aperta tonda, X meno 2 chiusa tonda e riscrivo il resto dell'espressione. A questo punto trasporto il meno all'altezza della linea di frazione e guardate con questo trucco ho eguagliato le basi. Andiamo quindi a fare il campo di esistenza, quindi poniamo X meno 2 diverso da 0 e X più 2 diverso da 0, quindi X sarà diverso a 2 e X sarà diverso a meno 2 e abbiamo fatto il campo di esistenza. Minimo comune multiplo, adesso è facilissimo, lo individuiamo facilmente, aperta tonda X meno 2 chiusa tonda per aperta tonda X più 2, vado a svolgere i calcoli, avrò meno aperta tonda X più 2 chiusa tonda più aperta tonda X meno 2 chiusa tonda meno 1, li ho ottenuti così, ho fatto il denominatore diviso l'elemento della prima frazione che viene X più 2 con il meno davanti sarà meno aperta tonda X più 2 chiusa tonda. Poi nella seconda frazione la divisione sarà X meno 2 per X più 2 diviso X più 2 rimane soltanto X meno 2 moltiplicato per 1 ci dà X meno 2 e nella terza frazione tolgo tutto perché la divisione mi fa venire 1, 1 per 1, 1 con il meno davanti meno 1. Continuo a fare i calcoli più che altro a togliere le parentesi quindi meno X meno 2 più X meno 2 meno 1. Andiamo a semplificare la X e abbiamo il risultato finale meno 5 fratto aperta tonda X meno 2 chiusa tonda per aperta tonda X più 2. Andiamo avanti con il quarto esercizio. 1 fratto B alla seconda meno 1 meno 1 fratto B alla seconda meno B meno 1 fratto B alla seconda più B. Scompongo i denominatori. Qui ci sono parecchie cose da scomporre. Abbiamo innanzitutto una somma per differenza quindi B alla seconda meno 1 è diventato aperta tonda B più 1 chiusa tonda per aperta tonda B meno 1 e raccoglimento a fattore comune sulla seconda frazione B per aperta tonda B meno 1 chiusa tonda e un altro raccoglimento a fattore comune sulla terza frazione B per aperta tonda B più 1 chiusa tonda. Andiamo ora a fare il campo di esistenza. Quindi pongo B più 1 diverso da 0, B meno 1 diverso da 0 e B diverso da 0. Quindi avremo B diverso da meno 1, B diverso da 1 e B diverso da 0. E adesso posso fare il minimo comune multiplo. Che altro non è che B per aperta tonda B più 1 chiusa tonda per aperta tonda B meno 1. Svolgo i calcoli. Quindi minimo comune multiplo diviso il denominatore, poi moltiplicherò successivamente per il numeratore, avrò B meno aperta tonda B più 1 chiusa tonda meno aperta tonda B meno 1 chiusa tonda. E ovviamente riscrivo il denominatore. Vado a togliere le parentesi, il meno cambia di segno alla prima parentesi, quindi avremo B meno B meno 1 e l'altro meno cambia di segno agli elementi della seconda parentesi, quindi più B diventa meno B e meno 1 diventa più 1. Vado ovviamente a semplificare lì dove è possibile, si può semplificare parecchio in questo caso, il risultato pertanto sarà meno B fratto B per aperta tonda B più 1 chiusa tonda per aperta tonda B meno 1 chiusa tonda. E vedete che posso fare un'ulteriore semplificazione. La B con la B del denominatore, quindi semplifico anche le B, il risultato finale sarà meno 1 fratto B per aperta tonda B più 1 chiusa tonda per aperta tonda B meno 1 chiusa tonda. Passiamo all'esercizio 5. 1 fratto x alla seconda meno 1 meno 2 fratto x più 1 meno 1 fratto 1 meno x. E qui vedete dobbiamo fare il giochetto di prima, scompongo il primo denominatore però, somma per differenza, quindi il primo passaggio che mi viene facile e logico fare. Poi successivamente riordino il denominatore della terza frazione e quindi lo riscriviamo al contrario. Vedete 1 meno x è diventato meno x più 1. Poi mettiamo in evidenza al meno 1 come abbiamo fatto prima. Avremo pertanto, vedete, al denominatore della terza frazione meno 1 per aperta tonda x meno 1 chiusa tonda. E ovviamente adesso spostando il meno del meno 1, meno per meno fa più e posso riscrivere la terza frazione in una forma ordinata ed omogenea rispetto ai denominatori delle altre due frazioni. A questo punto finalmente posso fare il campo di esistenza e avrò x più 1 diverso da 0, x meno 1 diverso da 0. Quindi sarà x diverso da meno 1 risolvendo le disuguaglianze e x diverso da 1. Minimo comune multiplo, facilissimo. Abbiamo i due elementi x più 1 e x meno 1 tra le parentesi. Svolgo i calcoli, quindi il minimo comune multiplo diviso il denominatore della prima frazione che fa 1, poi diviso il denominatore della seconda frazione e fa meno 2 per aperta tonda x meno 1 chiusa tonda, e diviso il denominatore della terza frazione. Quindi mcm diviso il denominatore della terza frazione darà x più 1. Abbiamo scritto x più 1 direttamente perché tanto 1 per x più 1 ci darà x più 1. Faccio i calcoli al numeratore. Quindi facendo i calcoli avrò che 1 più 2 più 1 fa 4, meno 2x più x fa meno x, quindi avrò meno x più 4 fratto aperta tonda x più 1 chiusa tonda per aperta tonda x meno 1 chiusa tonda. Non si possono fare altri calcoli, ulteriori calcoli, non si può semplificare nulla, però la riscriviamo in forma ordinata, senza l'elemento col meno come primo termine, e quindi magari una forma più canonica del risultato è il seguente, 4 meno x fratto aperta tonda x più 1 chiusa tonda per aperta tonda x meno 1 chiusa tonda. E passiamo al sesto esercizio. 1 fratto alla seconda meno 2a meno 2 fratto alla terza meno 4a meno 1 fratto alla seconda più 2a. Che particolarità ha questa espressione? Ha una peculiarità. La scomposizione in fattori, nei precedenti esempi, quando è stato necessario farla, ci è bastato un passaggio. In questo esempio, invece, ci sarà un'ulteriore scomposizione da fare ai denominatori. Andiamo a vedere. Intanto scompongo i denominatori per la prima volta e vediamo che abbiamo fatto tutti raccoglimenti a fattor comune. Quindi, nella prima frazione il denominatore è diventato a per aperta tonda a meno 2 chiusa tonda. Nella seconda frazione è diventato a per aperta tonda a la seconda meno 4 chiusa tonda. Nella terza frazione la scomposizione ha reso il denominatore a per aperta tonda a più 2 chiusa tonda. Come potrete vedere, la prima e la terza frazione sono scomposte, non si può fare un'ulteriore scomposizione. Mentre nella seconda frazione abbiamo un a alla seconda meno 4 che può essere scomposto ulteriormente. Quindi scomponiamo ulteriormente la seconda frazione che altro non è che una somma per differenza. Quindi andiamo a riscrivere tutto e andiamo a vedere che il denominatore della seconda frazione lo posso scrivere anche così a per aperta tonda a più 2 chiusa tonda per aperta tonda a meno 2 chiusa tonda. Quindi vedete abbiamo fatto un'ulteriore scomposizione. A questo punto ci riallineiamo determinando il campo di esistenza, quindi pongo a diverso da 0, a più 2 diverso da 0 e a meno 2 diverso da 0. Avrò a diverso da 0 risolvendo le disuguaglianze, a diverso da meno 2 e a diverso da 2. Andiamo quindi ora a svolgere il minimo comune multiplo e abbiamo che il minimo comune multiplo è a per aperta tonda a meno 2 chiusa tonda per aperta tonda a più 2 chiusa tonda. Comincio a svolgere i calcoli, quindi faccio il minimo comune multiplo diviso i tre denominatori e abbiamo che al numeratore potrò scrivere a più 2 meno 2 meno aperta tonda a meno 2 chiusa tonda. Come sono venuti questi risultati? Ho fatto il minimo comune multiplo diviso il denominatore della prima frazione e ho moltiplicato per 1. Poi minimo comune multiplo diviso il denominatore della seconda frazione che praticamente toglie tutto, rimane soltanto 1, quest'1 lo moltiplico per meno 2 e viene meno 2. Poi minimo comune multiplo diviso il denominatore della terza frazione semplificando avrò meno aperta tonda a meno 2 chiusa tonda. Andiamo quindi a togliere la parentesi al numeratore cambiando disegno agli elementi che diventano meno a più 2. Ed ora posso semplificare più a e meno a, tolgo meno 2 e tolgo un più 2 avrò che il risultato finale di questa espressione con le frazioni sarà 2 fratto a per aperta tonda a meno 2 chiusa tonda per aperta tonda a più 2 chiusa tonda. Ecco spero che questo tutorial vi possa aver supportato nella comprensione delle espressioni con le frazioni. Grazie. 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 Grazie.